nel museo civico la città sotterranea è possibile visitare un percorso nel mondo sotterraneo di chiusi attraverso un tratto dei cunicoli di origine etrusca creati per la gestione la prima sezione racconta l'ambiente naturale in cui chiusi ha potuto uno stretto e angusto corridoio dal quale è possibile vedere altri tratti di canali e cunicoli scavati in the civic museum la città sotterranea it's possible to visit a path in the underground world of qzi through a section of the tunnels of etruscan or the type of material and the decoration of the urns and leads varied widely from a narrow and narrow corridor from which it is possible to see